I carabinieri del ROS con il supporto di comandi provinciali territorialmente competenti all'alba di oggi hanno avviato le procedure per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina a carico di un 28enne messinese gravamente indiziato di essere un mercenario. Il giovane da Messina si sarebbe recato in Ucraina orientale per prendere parte alle attività di combattente in cambio di denaro. Le ricerche si sono svolte a Messina e Lodi, ultimi domicili del nucleo familiare del ricercato e contestualmente sono stati attivati i canali di cooperazione internazionale per l'esecuzione del provvedimento all'estero dove il destinatario si sarebbe trasferito dal 2016 per svolgere quella che la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 definisce attività di combattente illegittimo. Il 28enne messinese, dopo essere stato reclutato in Italia secondo l'accusa, combatteva in cambio di un corrispettivo economico al fianco delle milizie filorusse nel conflitto armato che a partire dal 2014 si è sviluppato nel Donbass tra l'esercito ucraino e truppe filorusse senza essere cittadino di quello stato né stabilmente residente. Gli viene pertanto contestata anche l'aggravante della transnazionalità poiché le condotte si inquadrano in un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. I militari dell'arma hanno eseguito anche perquisizioni finalizzate alla ricerca di materiale probatorio che potrebbe definire il ruolo di eventuali facilitatori che avrebbero agevolato e sostenuto anche finanziariamente le attività dei mercenari nel Donbass. Le indagini avviate nel 2019, coordinate dalla DDA di Messina, diretta dal procuratore dottor Maurizio De Lucia, si sono avvalse anche dell'analisi dei flussi finanziari internazionali e dei dati forniti da Facebook sulla base di una commissione erogatoria con gli Stati Uniti avviata dalla procura peloritana. E' stato in tal modo possibile documentare che il 28enne operava come combattente mercenario nella regione del Donbass, dove si era stabilito dal 2016, condividendo mediante i social network le proprie attività militari con congiunti e amici, alcuni dei quali gli chiedevano consigli e indicazioni per intraprendere la medesima attività. Durante l'indagine ha trovato inoltre conferma l'esistenza e l'operatività di una struttura organizzata attiva nell'area Italia-Ucraina, dedita al reclutamento e al finanziamento di mercenari destinati a integrare le fila delle milizie separatiste filorusse nella regione del Donbass, già emersa da un'analoga attività condotta da ROS nel 2018.